L'amuleto è purificato, la gente potrà guarire, ora l'amuleto ti proteggerà, ecco prendilo Ora devo, ho, ho sentito il male attraversarmi, devo riposare, sì, mi serve un momento per riposare, per la quercia Non è scelta qualcosa di dire, non è cosa Andiamo a vedere cosa Ancora abbietto, prendi o porta a casa Non posso farlo qui Ancora abbietto Questi non sono più pezzi Che ho ottenuto Allora 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 Oggi ho dovuto cacciare un altro missionario di Zacarum Vengono in visita, riempiendo i bambini di dolcetti per eliminare il sapore della cenere dalla bocca Allora Ho visto a che cosa porta la loro luce La loro passione per Zacarum li ha spinti a bruciare il mio villaggio Allora So che lì c'è un registro di quello che è successo Voglio Devo trovarlo Potrei mostrare ai bambini al borgo il motivo per cui non dovremmo fare entrare i missionari Potresti portarmici e aiutarmi a recuperare il registro Sì Vediamo Volevo farlo già da diverso tempo Ma Temo la destinazione Ah Abbiamo recuperato parecchio Ottimo riciclo Allora Molte pezze di valore Che Vediamo Vediamo Allora Andiamo Grazie a tutti. 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 e morte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti Andiamo a fare un favore 5 minuti Non si riesce a capire come beccare le casse del caos Un casino non si riesce a capire come beccare le casse del caos Grazie a tutti Grazie a tutti Non ce la faccio a fare sempre per favore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti